Come è bello andare al coro a Torino e tu cosa aspetti noi cerchiamo qualche voce in più Puoi provare a settembre poi se vuoi puoi restare tutto l'anno insieme a noi Come è bello far concerti a Torino e poi canteremo in tutta Italia a farti insieme a noi Tanti cori da incontrare qua e là ma grazie agli amici che ti abbraccerà Grazie